L'immane dimensione del passo in avanti compiuto in questi 75 anni la ricaviamo, Presidente Gian Santi, dal video che abbiamo appena ammirato e che ci introduce in un altro mondo, un mondo che le riforme e le politiche della Repubblica e quelle della Unione Europea hanno sollecitato e che le imprese agricole hanno plasmato e realizzato. Dovete, dobbiamo essere orgogliosi. Per il livello di qualità e di produzione di ricchezza raggiunti, per la profonda rivoluzione sociale che anche nelle campagne ha reso effettivi i principi di eguaglianza sanciti nei primi articoli della nostra Costituzione.